Euroflora non è solo profumi e colori ma anche la fantasia, l'estrema fantasia degli allestimenti, tronchi, pietre fossili e molto altro che scopriamo con Rita Lucido. Africa, Europa, America e Oceania, Euroflora non è solo mondo verde, è anche un giro del mondo per pietre naturali, fossili, minerali, comunque rarità importate con tanto di autentica per impreziosire giardini, parchi, interni. Fino al primo maggio sono una delle chicche del Palasport, curva di Levante che non ti aspetti. I esemplari così grossi si riescono ad avere soltanto in piccole quantità, in dimensioni più piccole si riescono ad avere in numero più elevato. Noi andiamo direttamente, io e mio fratello, proprio sul posto a scegliere di persona certi esemplari. Questo esemplare quanto pesa? Questo esemplare pesa sui 1600 kg. Tra storia e natura ci sono i tronchi fossili. Il tutto è avvenuto a causa di agenti atmosferici importanti come alluvioni che hanno distrutto intere foreste e l'acqua penetrando nel tronco piena di silicio ha estratto tutta la parte organica della pianta e l'ha fatta diventare pietra. Non più di dieci esemplari l'anno sono la rarità importata dal mare d'Africa. Sono trovati nei fondali dei mari e pezzi così grandi sono proprio rari. Anche se sono pietre qui fioriscono come le splendide rose del deserto, enormi intarsi naturali, e i tronchi di marmo nero, le coste lucide che sembrano scolpite di proposito, invece sono fossili, probabilmente crostacei. Si spazia dalle pietre brillanti di Norvegia a quelle calcare dell'Amazzonia, poi la Grecia, le pietre segnate da foglie ormai appartenenti alla pietra stessa. È un mondo nel mondo, quello vegetale, comunque protagonista. Con l'erba che non cresce, la liliace con vallaria japonica, importata in Italia vent'anni fa, è oggi marchio registrato. Le felci di ceppo giurassico, specie già presente 30 milioni di anni fa, la pianta coprisuolo della famiglia delle ginestre. Le piante sicuramente si capiscono e capiscono chi ama, chi le ama e chi no. Grazie. Grazie. Grazie.